Cesaretti in a... ...davanti per la Padula, chiuso poi Castiglia De Rizio, chiuso da Gucker Ronaldo controlla, fa fuori Carrus, ancora Ronaldo bravissimo tecnicamente, apre ancora sulla destra per Cat... ...un po' più razionare ...pallone di ritorno un po' corto, lo fa su... ...un po' Ronaldo ottima giocata di Ronaldo lo esegui Ciano lancio profondo di Ronaldo per Di Roberto tre voli, due partite per Ciano due partite in due momento lancio in profondità, attenzione Di Roberto va a rubare il tempo a Ferrari Di Roberto che mette c'è Sprocati che è andata a guadagnarla anche giù Ronaldo tentato dal tiro, dalla distanza centrale Cordazzo in due tempi Ronaldo tocco contro tempo di Di Roberto favorisce l'inserimento di Stojan poi Torri Grossa dentro per Stojan ancora Stojan limite dell'aria poi uno, due va tutta la Prodorcelli in avanti a cercare di sfruttare questo calcio piazzato Ronaldo giro ed è un gol spettacolare è un'attività per la Prodorcelli ancora Ronaldo dalla bandierina adesso sono i 6 a spartare Ronaldo batte passo Peperetta attraversa pallone deviato ancora si è ancora calcio d'angolo a sinistra sul Fabiano Ronaldo caricato di cucito il gioco Ronaldo qui se la cava con un po' di dribbling ai danni di Moretti ancora Ronaldo perde però il pallone per strada non può essere 34 anni difensore penetrato Ferri prepara il cross Ronaldo falla interessante colpo di testa a rete Marchi Marchi fa esplodere il pallone al centrocappista del Catanzaro poi esce bene in palleggio il Frosinone ancora Blanchard sombrero sul russotto poi regala il pallone ancora Ronaldo rilancio sul braccio di Carrus concessa la norma del vantaggio perché il pallone ancora sul piede destro del numero 4 del Catanzaro che prova a guadagnare il fondo gran colpo di tacco attenzione Biasi saltato da russotto continua l'azione del Catanzaro Ronaldo la mette in mezzo sul secondo palo a 1 Roberto Poscaglia Moro all'indietro Ronaldo buona l'apertura pallone gestito non benissimo devo dire da Pucciarelli stop per invio di Garufo con palla in fan Lempoli il calcio di punizione per la squadra di casa già battuto da Davide Bassi Ronaldo pallone buono per Esposito lo tiene in campo lo aspetta Isai lo punta Esposito che poi si appoggia a Lanzafame il cross non arriva al lupoli di testa Camillucci poi Ronaldo Ronaldo Somme Ronaldo lancio per Antonazzo che riesce a mantenere il pallone in campo occhiato un po' con il sinistro tanta potenza non altrettanta precisione pallone alto sulla traversa di andare a aiutare i suoi in fase offensiva quindi creare una superiorità numerica eccolo qui inquadrato il pallone in profondità proprio per Sforzini uno contro uno con Ludi fa salire i suoi Sforzini ecco Ronaldo pensa a calciare in porta arriva alla conclusione grazie